I cittadini di Bagno aspettano l'arrivo dei tecnici dell'Arta all'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente per sapere se possono bere con tranquillità la loro acqua o se esiste un legame tra il recente caso di un uomo ricoverato per aver contratto il batterio della legionella e le risorse idriche della piccola frazione aquilana dove esistono due serbatoi di raccolta delle acque. Controlli che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, secondo quanto garantito dall'Arta ai residenti che hanno chiesto informazioni proprio questa mattina. Nessuna carenza di personale, dunque, dietro ai mancati controlli sinora sulle risorse idriche locali ma una semplice tempistica autorizzativa. Senza la richiesta dell'ASL, l'Agenzia per la tutela dell'ambiente non può intervenire. Richiesta che ancora non arriva. Sale nel frattempo la preoccupazione per il ricovero in un ospedale al reparto di pneumologia dell'ospedale San Salvatore del sessantenne residente in un quartiere della frazione di Lilletta, un nuovo caso dopo quelli registrati nella Marsica. Nei giorni scorsi la Gran Sasso Acqua aveva chiuso gli impianti idrici per i lavori di manutenzione. Certo, la preoccupazione c'è perché poi nel contempo è successo che l'altra settimana la Gran Sasso Acqua ha tolto l'acqua per fare i lavori di manutenzione, siamo stati un giorno senza acqua. In alcune parti dei paesi di bagno l'acqua è tornata normalmente dal giorno dopo, mentre qui ancora non torna la pressione ottimale, le fontane sono chiuse e c'è molta preoccupazione perché le due cose poi vengono messe insieme, anche se magari sono due problemi diversi, però la preoccupazione nasce anche da questo, dice che l'acqua non c'è magari perché c'è questo problema. Ma ora, soprattutto in questo periodo c'è molta attenzione, le notizie giustamente volano 30 secondi dopo che è successo e quindi la preoccupazione è altissima. Ora diciamo ai cittadini che l'acqua di nostra parte sia pulita, quindi stanno tranquilli, però insomma lo deve dire, non tonino dei paesi, ma lo deve dire l'arte in modo che tutti siamo sereni e tranquilli e facciamo io quello al Signore che è stato colpito dalla legionella.